allora raga vi racconto sta partita guardate che bello è una cosa incredibile che mi è successa con una persona mentre stava a giocare vediamo un po' che è successo va allora con il mio ombrellino alteriamo come si è perso un po' spaccamo la casa edizione narrazioni qua vado a cercare i superpoderi incontro uno mi sparo e dai e dai e stavo per farmelo però vabbè ha vinto un po' questa volta andiamo a pescare c'è pesca uno squalo lo portiamo via non ci disturba più qua faccio un po' di mosse alla strange lo lascio qua veniva tranquillo tranquillo e ritorno a pescare magari ci danno spazio e pescamo ecco la salamanta qua che andava in giro tanto la cecchino la cecchino di nuovo e gli apri il culo tanto siamo forti e pescamo in continuo pesca pesca qua andiamo verso il fine della partita incontriamo a uno non sembra tanto forte uno del nostro calibro e se lo fa facile facile io vi chiedo allora qua vediamo come uno salterà e salterà con gli uomini salterà 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 non lo lasciamo salterà c'è problema e ora approfittiamo di sparare fa 2.75 e qua c'è sta c'è sta andiamo avanti fine partita manco io resto tezzio qua raga che sta fa la torre di bisa guarda qualche roba che cazzo ha fatto oh vi piace abbiamo abbiamo il via di b che ha fatto e guarda come salterà e questo è un altro il punto però sembra oggi guarda come salterà se vuole qualche cittadina le fa mescrua ma guarda che troppa è bravo pure mi sta fa vede guarda quanto sono bravo tappa e lo aspettiamo è che puccia è un vostro cacchi vabbè a noi cacchi ci piacciono il damo come sappiamo va vai 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 quando mi metto le scale il buco cala paventicio ma non fa niente pavimento uno scala va a portare a pavimento me lo sdrumo me lo sdrumo raga scendo giù scendo giù come nessuno sa fare vai strange bravo e grande e mo qua capisco che lui non voleva fa il tacco a me perché ho messo paura ha visto come sono scelto deboto e con le famiglie vabbè io da bravo samaritano punto giù tutte le armi tutto quanto chiedo pure un pesciolino a questo tizio qua guarda qualche roba quanto sono bravo grande strange poi faccio un balletto a duo che ti mostro che sono per amico guarda qua come ballamo siamo diventati amici vedi piano piano amicizia mo ci conosciamo mi ha fatto delle domande mi ha fatto delle domande mi ha fatto vedere quanto è bravo a evitare mi ha fatto vedere quanto sono bravo a evitare scusate sono bravo eh sono un poco bravo guarda che roba guarda che roba guarda che roba qua niente ci fate caso poi salteremo un po' fanno i pugnini insieme guarda che roba siamo bravi eh sono un po' bravi guarda a forno devo dire che ci fate le soldi e qua io voglio mangiare il cervello e fermate un po che ti mangio il cervello ti vuoi fermare ciò qua mi butta fuori questo bastazzino spero che sbaglio